Domani anche a Teramo si svolgerà la festa della natura in città promossa dal WWF in tutta Italia. Sì, promossa dal WWF in tutta Italia, sono 60 città italiane che hanno aderito, in Abruzzo abbiamo oltre 4-5 eventi sparsi in tutta la regione, uno di questi è quello di Teramo che faremo al Parco Fuviale. L'appuntamento quindi alle ore 9 nella zona del laghetto del Parco Fuviale e da lì poi si svolupperà la mattinata che sarà organizzata con una passeggiata naturalistica per scoprire e conoscere bene l'importanza di avere degli spazi verdi in città e di averne uno così bello come il Parco Fuviale. E poi faremo anche un po' di giochi, una caccia al tesoro per i bambini. Una festa vera e propria? Sì, sì, una festa vera e propria dedicata alle famiglie, ai bambini, una mattinata per scoprire meglio anche come tutelare e a cosa possono servire questi spazi verdi nelle città. Qual è la finalità in chiave anche futura di queste iniziative? Chiaramente è collegato ai grandi problemi che stiamo vivendo in questi giorni. Sappiamo bene che i cambiamenti climatici si combattono nelle città anche attraverso gli spazi verdi. Anche quindi attraverso l'aumento degli spazi verdi, la tutela, possono essere utili non soltanto alla nostra aria che respiriamo ma sono luoghi anche per la serenità dei cittadini. Noi abbiamo notato con uno studio che è stato fatto dal WF Italia che lì dove le città si sono dotate di spazi verdi che vengono fruiti la stessa città stessa viene vissuta in maniera molto più serena da parte dei cittadini stessi. Hanno uno spazio libero, i ragazzi tornano a poter giocare in natura, poter conoscere la natura direttamente. La finalità è quella di cercare di farli conoscere il più possibile e farli utilizzare il più possibile.